Buongiorno a tutti, oggi voglio farvi vedere come ordinare direttamente online i prodotti Herbalife Allora, anzitutto vi mando al mio sito e-commerce herbalnutrition.com vedete il primo, cliccate e verrete reindirizzati su questo sito questo è il mio e-commerce, qui trovate i miei dati anche il mio numero di telefono, la mia email qui ci sono varie sezioni che potete andare a visionare con calma riguardo le informazioni sull'azienda sui prodotti eccetera qui a sinistra trovate i prodotti nello specifico di Herbalife suddivisi in nutrizione interna, nutrizione esterna, member pack supponiamo che noi vogliamo andare nei prodotti base e cercare il nostro Formula 1 sostituto del pasto quindi clicchiamo qui vedete Formula 1 barrette, Formula 1 free, Formula 1 in bustine eccolo qua, Formula 1 sostituto del pasto clicchiamo per saperne di più e troveremo nuove informazioni sul prodotto l'unica cosa che è arrivata a fine pagina ci dice che dobbiamo richiedere un codice di accesso per sapere i prezzi e poter fare l'ordine quindi ritorniamo nella home page scorriamo la pagina e dobbiamo cliccare qui per informazioni sui prezzi iniziare gli acquisti e completare l'ordine premere qui clicchiamo e qui ci chiederà se siamo già clienti oppure nuovo cliente allora se siamo già clienti con l'email e col codice di accesso facciamo il login e entriamo direttamente nell'e-commerce e possiamo effettuare l'ordine se siamo nuovi clienti andiamo qui clicchiamo compiliamo con i nostri dati nome, cognome, email un numero di telefono io lo consiglio sempre se volete mandarmi anche un messaggio benvenca e poi cliccate su richiesta password in automatico riceverete via email un codice di accesso con il quale ritornando qui sul sito nella home page ricliccando qui ok cliccate su sono già cliente vedete che vi chiede l'email e il codice di accesso io in questo caso metto la mia email e il codice di accesso e clicco su submit ok siamo all'interno dell'e-commerce se adesso andiamo sul formula 1 sostituto del pasto vediamo che abbiamo la stessa videata di prima soltanto che qui alla fine possiamo scegliere i gusti del formula 1 e abbiamo anche il prezzo quindi supponiamo di comprare il formula 1 al gusto cacao lo spuntiamo scegliamo le quantità supponiamo di ordinarne due e facciamo aggiungere il carrello in automatico l'ordine verrà aggiunto al carrello possiamo anche qui in un secondo momento modificare le quantità e poi facciamo aggiorna vedete che anche il prezzo si modifica possiamo cancellare l'ordine oppure possiamo procedere all'acquisto cliccando qui in automatico vi verranno chiesti i dati di fatturazione quindi nome e cognome la via il paese la regione Nazioni Italia il CAP il telefono e l'email con la quale vi siete registrati al sito completata la sezione 1 dovete completare la sezione 2 cioè i dati di spedizione allora se l'indirizzo è uguale a quello di fatturazione vi basta spuntare questo quadratino altrimenti lo lasciate in bianco e inserite i dati dove volete far recapitare il pacco di Herbalize poi la sezione 3 modalità pagamento potete pagare tramite Paypal Poste Pay o carte di credito la sezione 4 se avete se siete in possesso di un codice sconto lo inserite qui se non lo avete lasciato in bianco e poi abbiamo il riepilogo del nostro ordine ok quindi il il totale parziale da pagare lo sconto l'IVA l'imballaggio e il trasporto saranno sempre zero perché il prezzo è comprensivo appunto di IVA di imballaggio e di trasporto quindi vedete il totale complessivo in questo caso 46 euro e un centesimo andiamo su continua e verrete reindirizzati alla pagina di pagamento in automatico nel giro di 2 o 3 giorni lavorativi riceverete a casa il pacco di Herbalize con dentro il vostro comune spero di essere stato utile con questo video se avete informazioni o domande questo è il mio numero di telefono il mio indirizzo email non esitate a contattarmi grazie per la visione e arrivederci alla prossima